Amici di Wicandense mi trovo da prezioso casa a Salerno, con me c'è questa bellissima donna che si chiama... Deborah Pepe, grazie. Figurati, e nella vita realizza delle cose particolari, degli avatar a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Sì, 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 anche sportivi, politici e tante tante persone. Qualche nome? Ricchito Gnazzi, Ornella Muti, Raul Bova, Giorgia e Arianna Meloni, Ignazio, la russa e poi ci sei tu. E arriva anche il mio avatar. Perché anche tu sei un VIP. Facciamolo vedere. Te lo facciamo vedere, ecco. Guardate. Il mini Dino Piacenti, non so se vi piace, è identico a te. Io sono proprio orgoglioso di questo riconoscimento e ti ringrazio, lo metterò proprio nel mio ufficio fisso, lo guarderò perché mi sommi. Io sono veramente onorata di avertelo realizzato con tanta passione e con tanto amore, ci tenevo tantissimo a te. Io ti ringrazio, sono onoratissimo di averlo ricevuto proprio personalmente da te. Grazie, grazie, sono veramente felice, strafelice. Complimenti per tutto e poi vedo qua una scritta. Sì, le bambole di Debbie appunto sono le mie bambole personalizzate e le facciamo a tutti anche per compleanni, diciottesimi, un battesimo, una coppia di sposi anche. Perché no? Perché no? Grazie allora. Grazie a te, grazie a te. Eccoci qua, eccoci qua.